Ogni anno migliaia e migliaia di nostri giovani, dopo il percorso formativo e scolastico, vargano i confini per andare a portare la loro intelligenza, la loro voglia di cambiamento, di creare futuro in un altro paese. Perché non riescono nel nostro paese a trovare il lavoro che spesso non c'è. Allora bisogna parlare meno di sussidi e parlare invece di più di come si intende creare il lavoro. E per noi la formula è chiara. Investimenti sui tasti della crescita, le infrastrutture, altro che bloccarle, vanno sbloccate e potenziate. La ricerca, l'innovazione e la formazione.